Come di consueto, la CNA di Pesaro Urbino apre l'anno nuovo tracciando un bilancio su quanto prodotto in termini numerici dal comparto aziendale e imprenditoriale pesarese nel 2021 appena archiviato, gettando uno sguardo sulle prospettive del 2022. Un anno che ha convissuto con la pandemia come dovrà conviverci quello appena cominciato. A conviverci hanno già imparato le imprese pesaresi di CNA, producendo numeri di crescita, quelli illustrati oggi all'interno dei capannoni della BMG, azienda dedicata alla meccanica di precisione situata a Pesaro in via Iesi. Il 2021 è stato un anno positivo per l'economia del nostro territorio, lo abbiamo visto in maniera eclatante con i dati. Dopo un 2020 assolutamente fermo per la pandemia, il 2021 è ripartito bene, soprattutto trainato dalla manifattura nel nostro territorio, dai settori della meccanica, del legno e della nautica che hanno praticamente trascinato dietro di sé tutto l'indotto altamente tecnologico di cui dispongono che proprio è basato nella nostra provincia. Questo ci ha permesso di fare dati di export straordinari, addirittura più del doppio di quelli fatti dalla regione marca intera. Nella provincia di Pesaro Urbino un più 26% di export nei primi nove mesi del 2021 rispetto ovviamente all'anno precedente ci danno la fotografia chiara che i nostri imprenditori hanno reagito. Ovviamente questa ripresa ha tutte le caratteristiche per essere nei prossimi anni più strutturale, con i soldi che arriveranno dal PNRR e se saremo in grado di scaricare a terra in maniera giusta i progetti che dovremmo fare. Però ci sono alcune spade di Damocle che ci preoccupano un po'. Il primo è il fatto che ancora siamo in mezzo alla pandemia, non è un caso, ancora ci facciamo anche le interviste con le mascherine, l'FP2 poi adesso. La seconda cosa è la difficile reperibilità delle materie prime e il costo enorme che queste materie prime per chi le trova hanno in questo momento, che è difficile poi ribaltare sul consumatore finale in maniera immediata e quindi grave preoccupazione. Ci sono imprenditori che per tutto il 2022 hanno commesse ma non riescono a partire questo motivo e non sanno garantire la data in cui partiranno. In più nel nostro territorio noi dobbiamo risolvere un problema tavico che in questo momento è fondamentale e se non lo risolviamo adesso sarà difficile poi farlo in passato che è quello delle infrastrutture, materiali e immateriali. Siamo indietro, siamo sotto certi aspetti isolati e questa è una situazione che non è più compatibile con quello che dovrà essere la ripresa nei prossimi anni del nostro territorio e delle nostre economie. indicatori di crescita per esportazioni e occupazione con un importante saldo attivo di 194 imprese in più nel bilancio fra aziende nate e chiuse nel 2021. Un più 0,6% provinciale superiore a un più 0,1% regionale così come spicca un più 26% di export rispetto a un più 12% di crescita regionale. Esportazioni orientate soprattutto su Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. Forti l'aumento anche verso Emirati Arabi e Sudafrica. In calo solo le destinazioni verso Cina e Arabia Saudita. Numeri che sono stati in materia di riflessioni per il neopresidente provinciale Michele Matteucci successo a otto anni di presidenza di Alberto Barilari, ora presidente onorario. Sono cambiati gli operatori perché il settore primario cede quote mentre ne acquistano molto le costruzioni, il terziario. Quindi ci stiamo evolvendo su questo punto di vista. Per quello che riguarda le costruzioni abbiamo avuto un bel balzo in avanti, questo è dovuto anche sicuramente a tutti i bonus che ci sono stati posti in atto. L'importante è da sapere comunque che noi abbiamo due problematiche grandi che bisogna cercare di risolvere e chiediamo anche alla politica di aiutarci da ragionare. Prima di tutto è creare un ambiente di sicurezza e fiducia per quello che riguarda la pandemia. Noi ancora siamo dentro purtroppo della pandemia che non ci permette di cogliere a pieno la ripresa perché tra le restrizioni e tra il non poter lavorare a pieno come si potrebbe fare in tempi di normalità tra virgolette questo ci tarpa le ali. Dall'altra parte i costi della materia prima che rimangono un vero problema. Chiediamo un'attenzione precisa su quello che saranno gli investimenti legati al PNRR e in particolare chiediamo che col PNRR si arrivi a sviluppare quelle infrastrutture materiali e materiali senza le quali noi non potremmo avere lo sviluppo che ci aspettiamo.